ok come si sente? giusto? alto? basso? bene qua teniamo così eh adesso vedi prima guarda la cutscene si si fa ripressione alla loro ovviamente ecco perché non mi ricordo un cazzo quindi non mi ricordo no quello no non mi ricordo un cazzo? non mi ricordo un cazzo? non mi ricordo un cazzo? bene no no non mi ricordo un cazzo? 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 no ho lasciato un cazzo? ho lasciato andare finché non finiva no allora allora questo è quello che va di miracoli tipo no? che sono dei buff in teoria eh ma l'assassino l'ho fatto nella scorsa run non mi ricordo un cazzo? ok allora non prenderò lo Stragone il Chierico l'Araldo ha una lancia il Piromante oppure vado Basic di Cavaliere tanto dopo cambierò sicuramente in corso d'opera le armi e tutto quello che uso quindi a te l'ho già accontentato con il nome quindi potrei andare il Piromante no non posso vedere le robe che ha ok vabbè dai teniamo il Piromante eccolo solo criticare io voglio provare le cose nuove e non posso praticamente ovviamente no 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 Non è vero, non è vero. Prendo l'araldo. No, anzi, però ci ho già giocato con le lanci e su coso. No, anzi, però ci ho già giocato con le lanci e su coso. Ma il nostro non sono in grado di farlo, è quello il problema. No, anzi. Il fuoco scuro, sì, ci sta. No, anzi. No. No, lo so, infatti. No, anzi. No, anzi. No. 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 un giorno per farle 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 Senza geriatrica, quindi... Sì. Magari, cazzo. Sì. 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 No, lo chiamerò... Joules. Esatto. Sì, se si scrive così, sennò è un riferimento solo per il nome, ma scritto in maniera diversa. E allora è solo per la pronuncia. Allora, dove sta l'audio? Ok. Allora, come si giocava? Così. Sì, beh. Secondo un tentativo, però sì. Ora, aspetta. Ah, palla di fuoco. No, è bellissima. Bene. Dovrò ricordarmi di tenere un po' di estruscinare. Imparo a scrivere. E dico questo. Ok. Un po' di estruscato. Let's go, andiamo a farci uccidere. Sì, ma punta là! Poi io non gli faccio un cazzo di danno. Ma perché continuano a sbagliare con Santa? Sta zitti, sta zitti! Ah! Come si prendeva due mani l'arma! Ma non mi aveva preso, dai, non è vero! Mi stanno bombardando sopra la camera mia. Infatti non faccio triangolo. Cos'è il triangolo? Di mostro almeno che è un triangolo. No! No! Ma non è vero, dai! Non direi che grazie! Non mio... Non. 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 No! Certo! Certo! Ma che cazzo 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 Ah 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 Quanto range aveva Quell'attacco A me non sembrava A me non sembrava di più Voglio il var Oh che pacca Ma che cazzo 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 Facciamoci un po' di morti Qua potenza inaudita first try scudo su todo, ahi estan bravo quasi saliva ancora no? perbaglio si va sopra ancora da dentro della stessa sostanza del padre benvenuti al buonfire unkindled one io sono un giocatore io tendo alla flamma e tendo a te i lordi hanno lasciato i loro troni e deve essere entregato a loro a questo fine sono a te molto bene poi tocchi la scuridità in me prendi il risultato da questi sovranici sovranici ok quindi cosa cazzo ha l'armondizzazione ok ok questo è quello per le magie parli di mana vabbè adesso ne ho no non faccio una build di fortuna non 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 ci sono non 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 Solti i soldi che diventano la tua fortuna. Io ti mostrerò come, Ashen One. Travi i soldi. Ashen One, per essere i soldi. Io sono Ashen One. Solti i soldi. Proprio quello... E sì, io anche non morto. Ma non è così carovole come darmi i miei soldi. Ashen One prende le soldi e le portano a me. Come voglio. No. Ashen One. Se i miei soldi mi portano a me. Con Ashen, io farò... Non è il nostro felice? Ahahah. Ashen One. Mi padre, André. Sì. Un nuovo venire, vedo. Io sono André. Io servei a questa sfida. Come un smith smith, forzendo le strade. Tu sei in search of the Lord of Cinder. Io credo. Un'intensibile giorni, io faccio. Tu necessitai buoni armamenti. Mi smithi le strade. Io sono un smith, come il mio corso. Ok. Ok. Il resto se tengo così. Non posso infondere niente, tipo. Eh, almeno non posso potenziare. Ok. Ora io qua non dovevo, non potevo... Ah, ok. Ok. Adesso posso. Sei prevedibile. Muro del castello di Lothric. Arrivo. Ok. Ok. Eh, dopo dopo. Spero. Dopo. Dopo. Spero dopo. Me ne l'ho anche dimenticato. Allora. Allora. Shake my head. Ignorante. Sto jodendo la mia testa. No. No. No, no. 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 Let me in! Let me in! No, auto in realtà. Bro. Ladbro. Oh, grazie per il follow. Il Quagmire. Buonasera, buonasera. Come va? Qua tutto bene. Abbiamo appena iniziato, ri-iniziato Dark Souls 3. Stavo tentando di trovare la strada perché non mi ricordo più come si va fuori dall'altra parte, mi sa. Da PC. Sono da PC. Sì, ma sai che non sono molto intelligente in queste cose? Non mi ricordo da che parte, sì. No, 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 vabbè. Per ora giocherò da solo. No, anzi. Sì, me lo giocherò da solo. Come dove c'è l'albero gigante? Non ho trovato strade. Sono davvero così... Eh. Ah, lì, madonna. Qua è bisogno, si salda sulla radice e si... Si va sulla radice e si prova a saltare, eh. Non ce la farò mai, tipo. Quasi. Quindi... così? No. Così? Non... No? Non puoi. Sì, no, me lo sto accorgendo che lo sto prendendo dall'angolo sbagliato, non è quello il problema. No, troppo così. Non riesco a girare. Pronto. Fanno bene la ricorsa... Non sono salito. Eh, sì, sì, devo fare un sharp light, Samir. Modonna. No, io non... Allora... Quasi. Sì, lo so, me lo sono accorto Eccolo qua, easy Force try, praticamente E sono un vetanano ormai, cazzo Ok, e? Adesso ho dovuto qui Dalla finestra, è giusto Eccolo qua Uh, scheggio di Estus Non mi ricordavo che ce n'era una Allora Cosa si può lasciargli giù? Ah, ok, vuole una palla esplosiva Eh, non ne ho Peccato Questo non gli va bene Beh, ho un osso da ritorno in realtà Ne ho quattro osso da ritorno Eh, sì, da bomba lo so Ok Bracciaio di ferro Sì, no, no, lo so Non è come nell'uno che bisognava ricaricare Eh, beh, non ho una bomba quindi Niente, quando ne avrò una ci tornerò Per fare la legge Per fare la legge, questa roba com'è che si faceva Dico, saltando da sopra Scendendo giù da sopra era Non mi ricordo più Eccolo Trovato Vai dalla parte Vai dalla parte opposta E buttato dietro What? Sì, sono qua adesso Ah, ok Beh, salto giù qua Allora Oh, giusto Dammi il tempo Devo riprendermi Ah, è l'anello d'argento Questo è quello delle anime, no? Sta zitto Che adesso vi imparo Guarda, ora Vado dritto per dritto Non raccolgo Non cerco più nulla Sì, vabbè, la mia seconda run La prima l'ho fatta due anni fa Praticamente Potrò non ricordarmi le cose Oh, giusto Vabbè, ma voi Voi non petti coglioni Perché dopo si fa un culo Le quest Vabbè, ma voi Vabbè, parlo con tutti No, ropra i coglioni Vabbè, parlo con tutti Non ropra i coglioni Non ci sono Grazie. Fuck. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my child cause. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Nostal of our five thrones will take five lords. The fast fading flame must be licked. A reenactment of the first link. So it is. I may be but small, but I will. O come l'impressione che mi prendiate per il culo però. si io ho equipaggiato l'anello e prima mi avrei anche visto farlo a presto a presto a presto la chiave universale esiste qua? si può prendere una chiave del tipo a presto 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 ancora, madonna, è spulsa ho sbagliato voglia che danno che mi ha fatto però stai zitto sono soffra poi si gambro un pezzo di merda non c'è un cazzo da dire non c'è un cazzo non c'è un cazzo non c'è un cazzo easy parry si sto mangiando proprio dei rischietos non c'è un cazzo hello oh 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 ok 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 E ma commenta di cosa appunto Sto sucando ancora Oddio Quanto male fa sto coso Non vaffanculo Devi sostenermi tu No merda L'unico carattolo a uccidere subito Non uccido Vabbè ma mi ha sciottato No non sono morti invece Adesso si Grazza Colpirmi con una faccia alle spalle da pezzi di merda Non vaffanculo Ma di nuovo ho sbagliato Ma sono stupido Vabbè Questo tizio fa troppo male Non sono capace Non vaffanculo Non vaffanculo Non vaffanculo E ci provo Ci proverò a ucciderlo Mentre è trasformato Spero Posso attaccare anch'io Sì a questo problema Non penso Head empty Not hot Oh 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 No merda è morto Noe Let's go Let's go Skeetors Ascia pesante Nice Eh Eh Desplicita questo Go Cough 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 mmmm non si apre da questo lato prova dito ma buco sempre comunque cosa il genocidio intendi o non è vero quale domanda scusa pensa voce alta perché ho detto che non penso non vedo domande sulla build io l'ultimo messaggio tuo che vedo è ignorato completamente ah non ne ho ancora idea beh vabbè dai però io avrei rollato qua boh non so in realtà magari un po' di insentrato su piromanzie o meglio o sull'uso delle piromanzie o magari un'arma un po' veloce così riesco ad attaccare di più poi non so se convenga tipo boh non so magari andare ma veloce una spada corta una spada corta una spada normale ma anche questa qua magari eh poco però le trovo in giro tipo anche la katana volendo o o o o o o fuoco beh dai adesso ho appena iniziato quindi faccio ancora ora a cambiare idea a vedere più avanti il tuo scudo non ti salverà dal fuoco oh madonna ma io sono stupido ho una scheggia di estus non sono neanche andato a potenziarla vaffanculo però dai cazzo di frecce mi blocca per sempre la estoc si ma carina non mi ricordo bene qual è però mi ricordo che è carina non è stato turlupinato lì c'è un cavaliero mi ha bellamente ignorato si si mi ricordavo che era uno stocco e che non mi ricordo cosa di particolare ah ok il long boy insomma si 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 quelli che c'è il fuoco si 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 ok sono vivo la riverna è ancora qua sopra ah ok oh no aspetta questo è il mimic tazzo ok la estucinaria guarda che gli faccio uuuu si ma punta meno perché non lo punta bestia che pacca comunque quando scrivete non ho il messaggio che va sotto la barra della vita e non lo vedo e non vedo la barra della vita perché vado no addosso alla s... vabbè metà vita però mi ha fatto no ma scusa leggi della rifrazione incredibili cazzo tirando la tenda c'è più luce dentro camera mia anche se c'è solo uno spiraglio di sole entra eh si eh lo so che devo mettere il messaggio dall'altra parte ma devo vedere come si fa vediamo ok vediamo ok posso anche ten... oh anzi lo posso tenere anche in centro che è molto più comodo a proposito di Boromir bravo mi ha fatto venire in mente una roba l'altro giorno no ieri che stavo lavorando sono andato a stavo praticamente mettendo via dei biscotti cioè andando a ricargli la costruzione dei biscotti e c'è una c'è una marca di biscotti che si chiama Boromir che 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 Mi ha spottato, perchè dovrei cambiarlo, non devo vedere se posso cambiare un'altra impostazione. Vabbè, uccidiamolo. E poi... E vabbè, stipiti della porta dei miei coglioni. Sono sacchetti, però non sono scatole. Mmm... Ma no, ma che palle! E niente, i messaggi nuovi sono in alto. Vabbè, un po' fastidioso però, tarò così. Sbagliato. Eeeh, arriva fino in fondo il fuoco! Ma che palle! Un po' pasti può andare di là... No, aspetta di qua, ero già stato. Non si poteva passare. Ah no, andiamo a scontillare di là. ah, non è nooo eh vaffanculo però bro ma dai vaffanculo quali short? il porto li ho provato però non si è aperta e se parli dell'altra sono morto prima sono morto contro il mimick non so no 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 e vabbè questo guarda che cazzo è arrivato però ma io volevo uccidere il Mimic cosa cazzo bevi la... beh vabbè quante te ne bevi farà no ma spesi gambera ancora qua... no come se ne è andato sto stronzo? vabbè non è normale che colpisca anche qua ecco il bravo ragazzo che torna ah è crashato ok oh fuck... allora come corre sto cartino? no... non l'attacarmi adesso? ok... shoo... la mano ho detto ok... ora provo ad aprire la shortcut adesso qui subisco danno perchè non da vivere a me troia non l'attacarmi ok... bene... e ora si provo a uccidar il Mimic non l'attacarmi non l'attacarmi nooo... si cazzo ho notato di madonna mi ha quasi shottato per un attimo ho sparato nel simbolo dell'avarizio non l'attacarmi non l'attacarmi non l'attacarmi non l'attacarmi no... è successo? come no... ah no... Ehi, c'è qualcuno alle spalle. C'è qualcuno qua. Allora, di qua si prosegue in teoria, quindi ho questo oggettino. E vado a morire giù, perché tanto ci sono i tizi con il cappello che mi uccidero. Infatti non mi segna. Beh, io vedo solo due spettatori. Quindi non li segna. Anche perché, adesso ti dico, se li segnasse davvero sarebbero... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Se ci fossero tutti i bot che ci sono dentro sarebbero tipo dodici spettatori. Eh, ma perché magari quelli sono anche un po' di bug, un po' di... Oh, figa! Un po' di... Roba di Twitch che sbacca. Tanto succede... La spezzacolazze. No, è chiusa. Eh... Non posso lo spezzacolazze. Non ho abbastanza Dex. Questo non ho abbastanza forza. Voglio richiedere 32. Non ho la chiave per aprire la cella di Greyrat. Quindi dovrò tornare più avanti. A meno che non è ancora da questa parte, io non me ne sono accorto. Ecco qua, c'è un oggetto. Ma sono coltelli? Ecco qua. Sì Ok... Vaffanculo, dove cazzo c'è arrivato? Ora qui, quello che si trasforma qual'era? Quello accucciato mi sa... No, non lo becco mai su... Mai... Chi... Stasuo va... Dai... Dai... Eh, ma dove sti contorciti dal dolore, però... Ancora... Mi fa metà vita... Sì... Ci avevo pensato, ma poi ho deciso di non farlo... E niente, non è caduto... E niente, adesso mi uccidono... E niente... E niente... E niente... E niente... Anche qui in Piemonte... Madonna, questo qua ogni volta arriva su dalle scale... Non ha una velocità... Che neanche Schumacher... Anche il suo compagno è salito a sua... Perché si salgono le scale sti troi... Sì... Ok... E quello pericoloso è andato via... Schumacher esatto... Vabbè, i nemici più forti del gioco... E niente... Ho provato a parriare... Al momento sbagliatissimo... E niente... Stai zitto... Vabbè, fanculo le anime... Come non detto... Ahahahah... Oh... Non è possibile che continui a sbagliare il pulsante... Dai, vaffanculo! No, no... Eh, vabbè... Finisce la stamina... Mezzo secondo... E ti ha... No... 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 Eh, vabbè... Guarda quello che si trasforma... Cazzo adesso... Dai, l'avevo ucciso però eh... Ed è rimasto là... Ma l'algo non lo posso usare... E' anche sbagliato a usare l'oggetto... Va bene... Bilanciato... Ma... Questo dove cazzo è arrivato? Prima neanche c'era... No... Non... Non prendo la spada... E' la cosa... ... mi ero fatto inseguire però dai guardalo che torna lo stronzo non si può fare così vabbè è troppo e anche un abbraccio qua ok intendevo intendevo l'arco allora abbiamo una pestossina e combattiamo su combo questo cavaliere let's go easy niente troppo però ok ok potremmo non armi per l'ora mamma mia no scaling whatsoever come si usano ok la cosa è che ho appena troppo mano la armatura mi sa beh vediamo questo dai sono migliori sento possi molto pesanti cattivi fuori il fior verde è la 500 change my mind cosa ti fa andare ti agita è tipo un città non c'è non c'è non c'è madonna non gli faccio un cazzo no infatti per quello ho detto che è la 500 oh mio dio è che hai detto che fa l'esatto contrario allora ho fatto la battuta o croppi coglioni non c'è non c'è non c'è ma adesso questo coso grosso sei cisa così non devo preoccuparmi quando vado giù chiedere probabile però intanto ok non credo quando fa un cazzo e allora dopo lo farò legit però intanto provo adesso posso solo una bomba di fuoco per non sprecare anzi non posso più fare la palla di fuoco quindi solo così e niente l'ho finita c'è il danno da fuoco in questo gioco incredibile ecco la stock allora di qua si va avanti e si va a fare per troia le robe vicosti torni indietro e dove riusci a tornare su ma da dove cazzo arrivano? ok sono sgusciati fuori dall'armatura tipo ok qui dove ero prima quindi mi tocca succare e andare avanti io qua ero prima lì c'è un oggetto come si arriva lì sì ero qua è stock è ma è stock come traduzione sbagliata ok va bene per arrivare lì c'è un droppino dove devo andare vediamo non posso rompere le finestre no questo è troppo tornato indietro devo tipo saltare mi sa vediamo una bella rincorsa no ce l'avevo boia che male ce l'avevo fatta però dai cazzo certo ho provato a saltare con A perché si salta con A in questo gioco culo due punti stretto no non c'è un cazzo qua sopra tipo provo di tomobuco che cazzo serve sta zona non c'è un cazzo io dovrei fare il boss in queste condizioni non c'è un falò però non c'è un falò prima che cazzo fra ok ecco ci arrivava dopo ora c'è un falò qua in giro o una scorciatoia o non voglio morire aiutatemi vi prego oh fuck easy ok qui c'è un ascensore ok 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 eh vabbè si non so per dove non mi ricordo più dalle cazze questa scocciatoia però no le buttcheeks sono sempre rimaste clenciate non ha saltato ottimo faccio primo così certo muoio probabilmente anche però fuck it meta vita si va a fare il boss tanto qui lo mi seguono fuck it we bowling ok madonna sto il joypad mi fa sudare un sacco le mani cazzo cazzo è vero la scioscura vabbè da adesso l'equipaggio al volo guardalo quanto è peloso sto tizio ho fatto ho sbagliato ho sbagliato non ho sbagliato stai zitto sonso ecco curati so quello che faccio so quello che faccio io mi ricordavo peggio questo attacco boia che treno è niente finita ma non è vero dai ho rollato ho rollato non hanno vaffanculo non ha rollato lo stronzolo che cosa devo dare la colpa a me che non sono capace di giocare no scusami che discorso è incazzatissimo ammordato ammordato poi muoio ma no vabbè madonna vabbè ogni colpa però è uno stagger qua non è possibile royal pungeab qui devo andare dove cazzo era l'altro fallo si stai zitto adesso non mi ricordavo l'ultimo dark souls mi ha fatto dimenticare che si può l'ultimo dark souls che ho giocato non è del ring ds2 no lo scorso è il dark souls che ho giocato nel senso dove cazzo devo andare però qua ecco dove devo andare no adesso cazzo quello mi cade giù non ciò che ho giocato non ciò che ho giocato non ciò che ho giocato Ora via di corsa. Sì, bella, a un lato dopo che ha fatto l'attacco, anche se non ne ho capito, in ogni caso s'è stato... s'è stato attento. Eia! Vedi, 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 vedi! Sta capitando il giugito. Non ne fa un altro però. Soffiolo. Ma non è vero, dai! Ma, vabbè. No, Dark Souls 1? L'ultimo Dark Souls che ho giocato? L'ho detto, avevo già risposto, non mi ricordo. Ehm... ho visto adesso l'ultimo messaggio. Seguinte di via del ring... Bene. Cazzo, non ho... Ho l'ascensore qua. Mi sono dedicato a mandarlo su. Però... Fai arrivare a qualcosa anche qua da me? Sono soffo. Anch'io voglio di assaggiare quelle robe. Mettiti la VPN e mi mandami un po' di roba. Cazzo... Chris, vabbè... Ok. singole, però. Eeeh, niente. No, no, non è mai qui. Che cosa intendo? Ehi, fra. Guarda una calmata. Oddio, vaffanculo. Nel senso, con la virgola in mezzo. Ehi, ciccio. Oddio. Cioè, intendo. Madonna, puttana. Non è che sa scrivere. Inizia le frasi con la lettera al minuscolo e poi scrive tutto in maiuscolo. Eeeh, per un anno, per un anno. Mamma mia. Ehi, fratma. Non erano due. Meglio. C'erano due. Eh, erano ventisette. E non lo so. 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 Sì, sì, va bene. Non ho proprio i coglioni. Buono, recuperate 100 anime. Guarda ho avuto un attimo di momento di riflessione sulla vita. No, eeeh, muoio. Non sono morto, però quasi. Almost died. Viis, shapalapa! Yish! L'avevo rollato un tempo qua, però... Se mi dici di nuovo viene lo stesso. Eeeh, muoio! va bene esagitato va bene Allo? Ok Grazie a tutti. Dai, non mi aveva preso, non è vero. Dio, non è vero, dai. Ero ancora a terra quando mi ha colpito. Vabbè, uccidimi, senti, facciamo un primo. Vabbè, ma che cazzo? Non l'ha mai fatto sta roba mai, adesso due volte. Le hanno perso le ho perse, quindi... Non mi aveva preso, non mi aveva preso, non mi aveva preso. Madonna, mi ammazza. In gioco. Ok. Impossibile fare la strada senza prendere danno. No. 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 Allora, vitalità, forse forse un livello. C'è uno proprio altro... davvero non posso fare un altro livello, che palle. Ah no, posso, perché cazzo non me lo faceva. E la fiamma su quella cazza che scalava. Vai. Ok. Intelligenza e fede, ok. E allora mi metto su di uno... intelligenza. No, non è il Learning che ha la mappa. Eh, ok. Sì, è il Battery Queue, quello è... coso? È Board. È Board, in questo caso, lo unio. Eccolo! E non c'è comunque il nome del PG. Però, se vuoi, lo sposto a... Cazzo, come cazzo si faceva? Ecco qua. Aspetta. Devo fare così, fare così. In mezzo ai coglioni. Ok. Così è contento. Adesso non c'era l'ascensore e sarei caduto rovinosamente verso la mia morte. Ora... Oh no. Oppa. Vabbè, dai. Ma che cazzo ha fatto? Cioè, ma... che cazzo? Avete visto? Che cazzo è successo? Mi sento Cheers, Q. Wow, la piromazia fa 1 in più di danno adesso. Eh, praticamente mi sono buttato giù dal balcone. E il nemico che era su quel balcone si è buttato con me e mentre si buttava mi ha fatto danno. Il treno? Sono abbastanza lontano e non dovevo andare bene, no? Ironic. Eh, niente. Mi ha flattenato. Mi ha trappanato danno. Ush. No. Eh, Dio. No. Quelle sono le pratiche che piacciono a te. Non a me. Quelle sono le pratiche che piacciono a te. No. 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 Eeeh, panic roll. Aaaaaah, no, ho sbagliato. Non è vero. Sì. 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 Sì.